Sembra ormai ufficializzata la candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio, il medico palermitano, sostenuto anche da Gianfranco Miccichè, sarà l'esponente dei forzisti per la corsa a Palazzo delle Aquile. La sua candidatura, nelle scorse settimane, aveva provocato malumori tra gli azzurri all'Ars. Adesso, però, è Andrea Mineo, segretario cittadino di Forza Italia, a sciogliere qualsiasi riserva. Francesco Cascio è il candidato di tutta Forza Italia, il suo nome è stato ampiamente condiviso a tutto il partito e sarà in grado di aggregare a incalzato Mineo. Forza Italia è il primo partito al centro-destra a Palermo in Sicilia e Cascio rappresenta la candidatura migliore che gli azzurri potessero esprimere, autorevole e dispessore. Cascio saprà dare al capoluogo siciliano il buon governo che merita, dopo il disastro lasciato al centro-sinistra. Abbiamo atteso con garbo l'ufficializzazione della sua candidatura. Ora è il momento di andare avanti con Cascio sindaco del centro-destra e con liste forti in cui trovano posto tanti amministratori, professionisti seri, preparati, portatori sani di consenso e che negli anni hanno lavorato sul territorio, ha concluso Mineo. Resta al momento il dato di fatto che la coalizione centrodestra non è riuscita a chiudere la quadra su un candidato unico per rappresentare l'intera coalizione e il nome di Cascio si va ad aggiungere a quello di Carolina Varchi, di Fratelli d'Italia e a Roberto Lagalla fuori dai partiti, ma rappresentante è l'area di centrodestra, nome che inizialmente sembrava potesse essere la scelta vincente sulla quale i partiti avrebbero potuto convergere e infine l'autonomista Totto Lentini e Francesca Donato.